E siamo arrivati così alle pagine sportive e iniziamo con il Corriere dell'Umbria di Carmine in alto col grifo. Il bomber fiorentino a 12 gol all'attivo, il più bello a Frosinone, a Novara dovevo metterla dentro, non segno da quattro gare. Con l'Ascoli ci proverò in tutti i modi. Campionato straordinario, in centrali playoff dopo una stagione così sarebbe davvero una delusione. Da Terni, Fere, si vola col doppio regista, Ledesma, Falletti per la svolta, l'ex laziale ha alzato i ritmi della manovra. L'Uruguayano brilla da trequartista. Andiamo a Gubbio, volano i rosso-blu da esportazione, ma nel Gubbio nessun Eugubino. Tra i tecnici super sottila, Siracusa, Gianmarioli con Marconi e Primo con la Cremonese. Sono quattro i locali e 18 gli oriundi nella rosa degli ex in Lega Pro. Cacavallo, Falzerano e Di Piazza, un passo dalla promozione. Andiamo, Trestina, K.O.A., Sant'Odoro, Zampagna, Solvisuoi. Avevamo ben cinque assenti. Si parla poi di pallavolo, siamo nella parte finale anche del campionato e della Champions League. E si parla di Champions League, la Sir Conad ascolta Rizzuto. Al pallavolo automatica si comincia con Berlino Zenit. Perugia si prepara al Tour de Force. Il general manager con Trento in casa. Bisogna limitare gli errori e giocare più di squadra. E Civitanova, l'avversario in Champions, la semifinale più equilibrata. Kazan, il favorito per la vittoria finale della Champions League. Ma, come si sa, le partite bisogna prima giocarle. Andiamo con la Nazione. Resto qui per portare in alto il grifo. Samuel Di Carmine, dopo il rinnovo, sarebbe proprio un peccato non entrare nei play-off. Sousa mi ha trattato come un figlio. Mialovic mi teneva d'occhio, ma l'esperienza, insomma, anche tra i big. Ternana, allarme e infortuni. Liverani conta le assenze. Poi Gubbio, niente riposo. Maggi vuole il massimo verso la sfida in trasferta. Il tecnico alla rosa al gran completo. Romano recupera la gara di Reggio Emilia. Che lo ricordiamo sarà giocata lunedì sera, 17. Lunedì di Pasquetta, alle ore 20.30. Sarà seguita dalla nostra emittente. TRG, naturalmente, sarà in diretta per seguire questa gara con una speciale puntata di fuorigioco dove sarà commentata, naturalmente, la gara. Fiorucci, il città di Castello non si arrende. Parla il tecnico biancorosso. Dobbiamo credersi fino a quando la matematica non ci condanna. Trestina, mancata la tensione agonistica. Il DS Cerbella, dopo il terzo capo di fila. Obiettivo stagionale già raggiunto. SIR Safety Perugia, Road to Rome. Gino Sirci, benvenuta a Berlino. Definita la sequenza delle semifinali della Final Four di Champions League che si giocherà al pallalottomatica di Roma. Il messaggero, Grifo, ti porto in alto. Di Carmine ha un futuro da Perugino. La famiglia qui sta bene. Per me è tutto. Più andiamo su, più sono felice. La mia stagione migliore. Con Bisoli giochicchiavo. Con Bucchi sono al mio posto, crediamo, nei play-off. SIR semifinale Champions. Da brivido la Super Lube. E si parla poi della Ternana. Le mille facce della Ternana. Dai risultati attalienanti raggiunti da Carbone alla parentesi. Tutta da dimenticare di Gautieri. Fino alla svolta con Liverani. Guerra di ricorsi nel calcio amatoriale. Scintille tra amici di Enzo e Gramsci. E questo per quello che riguarda anche il calcio minore. Bene, con questo è tutto. Anche per la nostra rassegna stampa di quest'oggi, di questo sabato santo 15 di aprile. Vi ricordo naturalmente, come dicevo anche in precedenza, l'appuntamento anche per lunedì. Saremo in diretta alle 20.30 con una puntata di fuorigioco per la gara della formazione del Gubbio a Reggio Emilia. Poi per quello che riguarda invece il nostro sito internet www.trgmedia.it Resterà sempre attivo anche in questi giorni di festa, 24 ore su 24, con le notizie, tutte le news e gli aggiornamenti. Per quello che riguarda l'informazione in diretta invece, la nostra rassegna stampa per martedì mattina puntuali alle 7.30. Ringrazio Patrizia Melelli, Carlo Manciani in regia. A voi tutti gli auguri di una buona Pasqua. A voi tutti gli auguri di una buona Pasqua.